forti di noi ma che i ragazzi Adesso è nell'ora Infine l'ultimo ascolto, il geometra Mangoni Già voce chitarra nei Murial, Maurizio Mangoni si cimenta in un percorso solista in italiano proponendo concetti da cantautore immersi in ritmiche elettroniche che riportano alle sonorità del nord Europa Dal vivo sarà accompagnato da piano e batteria Ascoltiamo il geometra Mangoni Grazie a tutti Cosa vuoi che sia se dietro ad una palla sono incoraggiato Ad odiare mi ritrovo recuperato appreso all'ansia di giornate I giorni trascorsi dietro all'educazione fatta sulla guerra delle ruote Sia quel che sia nonostante tutto verrà Che mi dimenticherò di essere stato piccolo E com'è stato piccolo E com'è stato molto più bello Giorno dopo giorno Giorno dopo giorno Siamo il braccio destro Siamo il braccio destro di tutti i nostri incubi Acqua da morire Acqua da morire Acqua da morire Acqua da morire E allora Il sito del Rock Contest è la pagina su Facebook L'eco del Rock Contest Ciao 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 Ciao